Hey guys, benvenuti in questo nuovo video! Eccoci qua ragazzi, Jonathan mi ha costretto, già sto piangendo, a fare un altro gameplay di Outlast su Playstation 4 Io mi sono premunito questa volta in caso di cacamienti sotto, quindi ho tutto a disposizione ragazzi L'altra volta eravamo rimasti nell'attivare i due interruttori e la pompa generale per attivare l'elettricità E il dottore ci inseguiva, dottore! Te ne devi andare via dottore Speriamo bene ragazzi, che il dottore non mi faccia scagazzare, anche se ne dubito seriamente Ci saranno molti, molti, molti scagazzamenti oggi Bene, bene, se questo caricamento la finisce in fretta In fretta, in fretta, caricamenti sempre di fretta Ok, eccoci qua, il caricamento è finito Allora, dove siamo qua? Già mi sta venendo l'affanno Siamo nella sala appunto, ecco, comunque mi ricordo dove siamo Allora, dobbiamo saltare per di qua Attiviamo il cacchio di tre rossi Who's that? Who's that? Già l'abbiamo sentito Fortunatamente adesso è giorno a casa mia, quindi Non ci saranno molti scagazzamenti Se scagazzamenti troppo... Allora, io devo capire qual è la sala della pompa, quella là con la finestra Cioè, è con l'armadietto, ecco qua Questa è quella con l'armadietto Abbiamo aperto la porta Come si correva? Ecco, con questo tasto qua Qua invece è quella là senza niente Quindi io devo Attivare questa Correre subito dall'altra parte Prima che il dottore mi veda Attivare anche questa Velocemente proprio E nascondermi in una di queste Disattivare subito la luce Prima che si scarichi la batteria E aspettare che il dottore entri Dottore Passiamo proprio la telecamera Questa adesso viene E viene a controllare Nel mio armadietto Io mi cago sotto Chi vuole vedere? Oh, cacchio Cacchio, cacchione Cacchietto Ok, non sta controllando nel mio Se ne è andato in cielo Te ne devi andare tu in cielo Ok Porca trota Ora Devo Oh, cacchio E che ho tolto questa? Ok Lui è ancora qua Io devo trovare Adesso la leva Però non era qua C'è il dottore? Toi Cacchietto 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 해 Hehehehehe Hehehe No, vissallori Cacchietto Oh, aiuto Aiuto Scappa 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 Nappro Soma Cacchietto Aiuto Aiuto Porca miseria Sto dottore del cacchio Porca miseria Ma proprio sciurdiate Che merda Ricominciamo tutto da capo Io mi devo vedere pure la porta Dove devo scappare subito Quando una volta ti Mamma mia Ok Ti facciamo di nuovo Mamma quanto è brutto Quello è proprio brutto Quello è il problema Ok Porta aperta di qua Dobbiamo la porta di qua Allora io devo fare questa Andare di là Aspettare nell'armadio E poi il dottore Siccome entra da questa porta Che adesso è chiusa Io devo subito scappare di qua Per attivare la cacchio di Di leva Perché c'è una leva Per attivare l'interruttore principale E poi tornare qua Velocemente Questo è quello che si dovrebbe fare Senza scagazzarsi addosso Ma il dottore Non ce lo permette Ho disattivato Non ho disattivato la luce Ok ora si Speriamo bene Vai dottore Vai dottore Io mi cago sotto Non voglio giocare A questi giochi Eccolo la Il bastardo Con la mazza in mano Siamo in silenzio Ho paura che mi sente Un altro fantasma Questi sono un fantasma formaggino Io devo uscire da qua dentro Lo sai vero Attiviamo questo E cerchiamo di uscire In silenzio Capire lui dove sta Ecco Speriamo che non mi abbia visto Eh ma qua non si vede un cacchio Fuori dalla cosa Non posso sapere Se lui mi stava seguendo Perché adesso Non voglio consumare Tutte le batterie Del cacchio Eh si Mi stava seguendo Ti prego Non aprire questa 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 armadio qua Ha aperto l'altro armadietto Non ha aperto questo Se ne è andato in cielo Esatto Ok Devo cambiare la batteria Ma io qua sono di nuovo all'inizio Quello è il problema Non era qua che c'era la leva Aiuto Questa è andata Ormai è tardi Ormai è tardi No Non è tardi 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 Ho trovato un po' No La porta Non riesco a bucare la porta No 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 Non si dice Io non trovo la leva Non trovo la leva del cacchio Devo trovare la leva Non riuscirò mai A passare questa parte Del cacchio Meno male che mi ero fatto Tutto il piano Meno male Facciamolo velocemente Questa parte Tanto ormai l'ho imparata A memoria E quella la porta Io devo andare di là Però poi non mi ricordo più Dove sta la leva del cacchio Quella fa pure la musichetta Quella è quella che mi fa più Cacare sotto È quella musichetta del cavolo Puessi passare un guaio Nero 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 Sto dottore Di E dire Che la parola dottore A me piace Doctor who Il dottore Non questo dottore Non questo dottore Che addirittura va a controllare Negli armadietti Meno male che io non mi nascondo mai In quello che doveva controllare Lui Ok Ora dovrebbe essere andato Attiviamo la telecamera E usciamo da qua Senza farci Vedere Lui dove sta Ok Corriamo Perché noi facciamo rumore nell'acqua adesso qua Quindi devo correre A volte non riesco a imbucare le porte C'è un armadietto Nascondiamoci subito qua Che lui mi ha sentito Sicuramente Ma io qua già ci sono stato Però stava scritto tipo Pump No Non controllare in questa Ti prego Che sennò io muoio Oh no Non in questo armadietto Non in questo armadietto Sì esatto Se n'è andato in cielo Tu te ne stai andando Non farmi venire un altro infarto Ti prego Chiudi la porta Silenziosamente Chi ti è morto Qua non c'è nessuna leva Del cacchiolo Qua non c'è niente Questa leva Della Cacchiava ur Cacchiava ur Cacchiava ur Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Avevo trovato la strada Avevo trovato Non è possibile Ci provo l'ultima volta ragazzi Se ci riesco Ci riesco Se no Basta Io lo butto nella spazzatura Questo gioco E non lo posso nemmeno buttare Perché è digital Porca miseria Però adesso ho capito Dove Forse Forse ho capito Dove sta la La leva del cacchio Se facciamo tutto Con velocità Gioco di merda Ci vuole un cuore Molto forte Per questo gioco Molto Molto E dai Fai presto Oh no Non venire qua Ti prego Ok Non sta venendo qua Un altro fantasma Battene Battene Il più lontano Possibile Immaginabile Oh oh Mi ha visto già Questo porco bastardo Le scale sono di qua Aiuto Mi ha visto 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 Ma se io scappo Da questa porta Forse ce la faccio Forse ce la faccio Chiuditi nell'armadietto Chiuditi nell'armadietto Del cacchio E spegni la luce Speriamo Speriamo No Meno male è andato Dall'altra parte Esatto Me ne sono andato Nel cielo Non mi ha visto 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 Fortunatamente Ed ora qua c'è la leva Qua sono sicuro Che ci sia la leva Io l'attivo E mi nascondo di nuovo Mi nascondo di nuovo Aspettando Che quando l'orologio Farà così E' vero E' vero Che mi hai visto Che stai venendo di qua Non la disattivare La leva però Cacchio Meno male Che è visto Di nuovo In quello L'ha sbagliato Fortunatamente Questo dottore E' un imbecille E controlla In un solo armadietto Qui non c'è Nessun Blutto gattaccio Questo Penso di essere Di te silvestro Che cambiamo La batteria Prima che finisca Nel momento sbagliato Apriamo E iniziamo A scappare L'ho trovato Di fronte L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato di fronte A me Di fronte Proprio Aiuto 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 Scappiamo di qua Scappiamo di qua Scappiamo di qua Però devo fare Un'altra cosa Di Vediamo Se ho fatto Tutto Come si fa Ad entrare Negli obiettivi Non mi ha seguito Fino a qua Fortunatamente Ma questa cantina Del cacchio È Purtroppo Dove lui Entra spesso Il bastardo Non fare rumore Ebbe te Che non sei altro E ora Via Più veloce Della luce Ce l'ho fatta Ragazzi Ce l'ho fatta E ho guadagnato Anche uno spaccima Di trofeo Ho riattivato La corrente E ora Dottore del cavolo Non potrai più Farmi niente Perché qua Tu non ci vieni Vero Ce l'ho fatta Ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì Sì E ora dove dovevo andare Nella stanza Della sicurezza Dove devo andare Security room No qua c'è witness Ok Ora Slocchiamo le porte Oh chi è Mamma mia No mi hanno drogato Non avrei voluto farti questo Ma non puoi attendere No no Devi ancora vedere molte cose Ah non puoi adattere No chi è questo Il prete Che cacchio C'è una sola via di uscita Ma perché io voglio scappare Da qua Però ragazzi Siamo andati avanti Mamma mia Che ci è voluto Per superare Sta parte Ci ho provato 15.000 volte Però alla fine Ci siamo riusciti Con un paio Di scagazzamenti Dove sta L'ho persa L'ho persa Ho scagazzato troppo E' finita la carta igienica Bene ragazzi Dopo questi vari scagazzamenti Io vi dico che per il momento Questo video è finito Ragazzi Vi do appuntamento Al prossimo episodio Di Outlast Intanto qua il filmato Va avanti Se il video vi è piaciuto Ragazzi Cliccate i pollicioni In su Dovunque Dove volete voi Se non vi è piaciuto Da parte del nostro Bruttissimo Dottore Grazie ragazzi E al prossimo video Ciao Adio